Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre per benedizionare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi torniamo a parlare un momentino della carta dedicata a te, carta di sparmio spesa per capirci, che era riservata a 1.300.000 famiglie e dicono che potrebbe riempirsi ancora di una nuova ricarica. Quindi, 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 oggi proviamo a fare una previsione in base alle informazioni che abbiamo. Partiamo subito da questo così ci capiamo. Per la carta dedicata a te il governo ha messo in campo circa 500 milioni di euro e comunque fino alla prossima manovra non sono in programma nuovi rifinanziamenti. E allora la domanda dice perché allora ci stai parlando di questa cosa qua? Allora, la domanda è questa. In quale caso ci sarà una nuova ricarica? Possiamo a questo punto ipotizzare che un'altra ricarica sulla carta dedicata a te potrebbe arrivare solo nel caso in cui dopo la prima fase di distribuzione delle carte, quella che c'è stata a luglio, ci potrebbero essere altri soldi che sono avanzati rispetto ai 500 milioni messi a disposizione con l'ultima legge. Quindi, se pensiamo al fatto che potrebbe succedere, che ci siano delle carte non ritirate, non che potrebbe succedere perché è successo ma l'avete scritto, quindi non è che potrebbe succedere. Oppure, non lo so, delle famiglie che si sono dimenticate di attivarla come previsto dalla legge e anche questo è successo perché leggevo commenti in giro anche questa cosa è successa. Quindi, tra un problema e tra l'altro vorrebbe dire che le carte non ritirate o non attive o non attivate non saranno riassegnate a nuovi beneficiari, ma i soldi risparmiati, cioè quelli che praticamente sono andati persi perché è un bel momento se non li attivi e non li utilizzi, i soldi, cosa succede? Non è che stanno lì in eterno, no? Tornano indietro. Quindi, tornando indietro, è probabile che questi soldi non utilizzati potrebbero essere utilizzati per delle nuove ricariche. Quando, infatti, vi dicevo, qualche tempo fa era uscito un video, vi dicevo attenzione, sbrigatevi ad utilizzare la carta, non ve la fate scadere oppure attivatele, anche spendendo solo un euro, perché bastava spendere anche solo un euro non è che bisogna proprio scaricarla tutta era proprio per questo motivo, per evitare che i soldi tornassero indietro allo stato E allora, quale sarebbe la previsione? È facilissimo Se ci sarà una nuova ricarica sulla carta dedicata a te o carta risparmio spesa, come vi ho detto che la chiamo io si potrebbe ipotizzare per ottobre o i primi di novembre Perché queste date? Perché se facciamo due calcoli due calcoli semplicissimi, senza andare a fare troppe alta finanza la carta è stata distribuita a luglio e poi entro il 15 settembre doveva essere attivata Quindi, se consideriamo ottobre come probabile futura ricarica allora questo vuol dire che entro il 15 di dicembre sarebbe la nuova data in cui attivarla Per quanto riguarda l'importo, quindi i soldi che potrebbero essere ricaricati ovviamente non è una cosa che si può sapere al momento anche perché tutto dipende da quante risorse effettivamente ci sono ancora disponibili cioè di queste carte non attivate, non utilizzate, che tornano indietro allo stato sta di fatto comunque che il nostro governo di questa carta ne ha fatto una grande pubblicità se ci fate caso, cioè praticamente, come dire, ogni governo si fa la sua carta secondo me è una cosa così, che hanno questa cosa nuova arrivo io, faccio il mio governo, ti metto una carta nuova e le altre buono a sé cioè, sapete che ognuno poi fa come vuole in pratica, no? e quindi da che cosa l'abbiamo dedotto? l'abbiamo dedotto dal fatto che il bonus benzina che abbiamo capito che comunque non arriverà a tutti perché secondo la loro testa se io riduco l'accisa allora la riduco solo per tutti quanti però chi spende di più guadagna di più cosa non vera perché se io spendo 10 euro mi risparmio l'accisa se ne spendo 50 mi risparmio quell'altra ma l'importo è sempre quello, non è un importo fisso è un importo che varia in base anche a quanto si spende se non è una percentuale voglio dire è un importo fisso quindi, boh, non so questa cosa mi ha lasciato un po' così però sta di fatto, tornando a noi che anche per quanto riguarda il probabile bonus benzina 80 euro, 100 euro che adesso andremo a capire anche quanto sarà stanno dicendo che potrebbe essere caricato proprio su quella carta quindi anche lì quando vi dicevo sempre attenzione non buttate via la carta RDC non buttate via la carta dedicata a te una volta che ce l'avete tenetele fino alla scadenza comunque sapete che le carte hanno una scadenza tenetele fino alla scadenza perché non si sa mai qui i governi decidono di cambiare le cose cambiano un po' come cambia il vento e quindi è facile che magari uno dice ah io tanto la carta RDC non funziona più, non me la ricaricano più e boh, la butto via no, ricordatevi sempre che le carte sono sono delle carte comunque sono delle carte anche se ricaricabili comunque sono carte e se malauguratamente qualcuno dovesse venirne in possesso e voi non ve ne rendete conto capite bene che potrebbero succedere dei grossi grossi problemi quindi quando avete una carta mi raccomando non buttatela via e soprattutto non buttate via neanche la carta dedicata a te comunque torniamo a noi come vi ho detto prima per adesso queste sono delle previsioni vedremo un attimino che cosa deciderà di fare il governo se deciderà di rimettere in campo questi soldi che non sono stati riutilizzati oppure tenerseli per loro io spero di no mi dice che comunque sono stati finanziati e quindi è giusto secondo me che anche se qualcuno non li ha utilizzati non vengano sperperati in altri modi ma rimessi in campo e appena ci saranno comunque delle novità come sempre ve lo farò sapere con un nuovo video poi notizia veloce 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 velocissima vi dico subito che esistono dei tutorial per quanto riguarda l'assegno unico quindi domande di assegno unico in sospeso ve ne parlerò un pochino meglio poi in un prossimo video però sappiate che esiste questo servizio messo a disposizione dall'inps dove c'è la possibilità di avere delle guide nel caso in cui l'importo dell'assegno unico non venisse pagato o se dovessero esserci dei problemi con il caricamento della domanda vi dico solo questo poi tanto ve ne parlerò meglio in un altro video bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao 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 ciao